Questi sono i residui di un venerdì sera alternativo, Passo San Boldo, ore 4.43. Buongiorno a tutti! Ci dirigiamo verso bivacco dei Luff. Arrivati al bivacco! Direzione bivacco dei Luff! Quasi arrivati al bivacco! Eccoci! Discesetta tecnica! Arrivati al bivacco dei Luff e la sua splendida visuale a Cison di Valmarino! Buongiorno! Buongiorno! Casera! Ballon scuro! Ballon! Qui abbiamo alcuni ruderi rimasti, mentre nel panorama qui in fondo si può intravedere feltre, busche, mel, lentiai. Mentre lì in fondo abbiamo il Col di Luna, Monte Pavione, dove c'è il rifugio del piazzo, mentre Cima 12 e molte altre all'inseguimento. 1300 metri, Passo San Boldo, Col dei Moi. Cima conquistata ragazzi! . . Monti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.